Se è mai venuta qui. Ti do il benvenuto, Mistios. Io sono Sargon, curatore di antichità mitiche e straordinarie. Ho tutto ciò che il tuo cuore può desiderare e molto di più. Non ho mai incontrato un mercante così orgoglioso delle sue merci. Saranno apprezzabili. Sono le migliori di tutto il mondo greco, credimi. O possa Zeus fulminarmi. Sono sempre felice di separarmi da qualche drachma, se ne vale la pena. Non mi interessano le drachme. Accetto solo pagamenti in oricalco. Non so cosa sia. Pochi lo conoscono, per fortuna. È un metallo prezioso, molto antico. Possiede molte proprietà che Sargon trova interessanti. Cosa vendi esattamente? Molte cose, Mistios, molte cose. Ho armi, armature, indumenti alla moda e accessori per te, per i tuoi amici e persino per la tua nave. Ma quale mercante non accetta drachme? Quello a cui interessano forme di pagamento più rare e preziose. Dimmi dove trovare l'oricalco. Puoi trovarlo in tutto il mondo greco, se sai dove cercare. Controlla anche i lavori speciali esposti sulla bacheca. Sargon non è l'unico a commerciare in oricalco. D'accordo, vediamo cos'hai da offrire.